Ciao, in questo video parliamo di solidi, questi video sono tutti sulle basi del disegno, nel video precedente sempre sulle basi del disegno abbiamo parlato di misure e misurazioni, un altro strumento utile è proprio l'utilizzo di solidi per ricostruire il disegno. I solidi sanno tutti cosa sono, sono figure geometriche tridimensionali, quindi perché sono utili per costruire un disegno? Perché essendo tridimensionali abbiamo anche delle facce, quindi disegniamo il parallelepipedo, il cubo, oppure un'altra figura molto usata quando si costruisce la figura, ad esempio il cilindro, come poi vedremo, e vedremo queste caratteristiche sono utili perché tanto sono figure che sono tridimensionali e hanno anche una particolare facilità, poi anche a occhio, a mano, per metterle in prospettiva. E poi, secondo me, hanno delle facce, sono tridimensionali, hanno delle facce, come nel caso del parallelepipedo del cubo, pensare, cioè costruire un disegno, il disegno, pensandolo prima come una figura geometrica semplice, quindi anche con un parallelepipedo, può essere utile anche per quanto riguarda la luce, le ombre, o anche ad esempio il cilindro, per capire ad esempio come incide la luce o le ombre. Quindi spesso i solidi si utilizzano proprio sia per stilizzare o per costruire, ad esempio, la figura, e quindi pensarla prima come una serie di forme geometriche solidi, sia per la questione proprio di facilità nel costruire la figura o degli elementi del corpo umano, quindi per metterli anche in prospettiva e anche per la questione luci, ombre, eccetera, perché aiutano a stabilire la faccia dove, decidendo appunto dove arriva la luce, dove c'è l'ombra, il colpo di luce, eccetera, ma questo poi se ne parlerà in futuro. Ora ci dedichiamo proprio a un esempio molto semplice e pratico di come si può ad esempio utilizzare i solidi, come in questo caso fare un esempio col cilindro, perché il cilindro è un solido che si presenta molto spesso nel corpo, perché il corpo umano ha molti elementi cilindrici. Adesso andiamo a vedere, facciamo qua, una figura, facciamo vedere come, ad esempio, se prendiamo la gamba, si può pensare come, appunto, in maniera stilizzata, sfruttando appunto i cilindri, come ad esempio... Ecco che se noi iniziamo a guardare la figura in forme molto più semplici, appunto... Tenendo presente che a zeppo le gambe possono essere pensate, possono essere costruite con, appunto, due cilindri di questo tipo, con due forme cilindriche di questo tipo, e in fase poi, appunto, di costruzione, quando poi si deve tenere conto della prospettiva, eccetera, è molto più facile ragionare, almeno all'inizio, con... Appunto, appunto, con forme più semplici, proprio perché, appunto, come primo approccio alla costruzione della figura, aiutano molto. Adesso qua, io sto, appunto, usando come, come solido, soltanto cilindri, ho forme cilindriche, però, appunto, poi ci sono, ci sono anche altre, altre forme, altri, altri solidi, che possono essere utili, come parelle pipe, eccetera, Ora, vabbè, ho fatto un esempio soltanto per quanto riguarda i cilindri, perché poi alla fine nel corpo si utilizzano molto, quindi... È una cosa molto semplice, quindi, l'utilizzo dei cilindri, dei solidi, appunto, come in questo caso, dei cilindri, per analizzare le gambe o le braccia, Perché, anche se apparentemente può sembrare una cosa molto semplice e ovvia, non per tutti lo è. Cioè, io, i miei video sono fatti, almeno questi sulle basi, per chi ha iniziato a disegnare da poco, o per chi comunque non... In qualche modo non conosce queste cose, quindi per molti possono essere banali, però non per tutti lo sono. Quindi, iniziare a valutare, comunque, a costruire il disegno utilizzando sia misure, linee, forme geometriche, come cerchi e altro, Quindi anche con i solidi, aiuta sicuramente sia a capire meglio la figura nello spazio, quindi quando va in prospettiva, eccetera, E si ha anche, poi, per quanto riguarda, come dicevo, a questioni luci, ombre, perché ragionando su solidi, quindi forme più semplici, è anche più facile poi colorare, eccetera. Poi, ovviamente, una volta che si costruisce con dei solidi, ovviamente, poi bisogna modellare la figura in maniera più realistica, tenendo presente il ginocchio, tenendo presente i muscoli, eccetera. Però, ecco, è importante sapere che un approccio di questo tipo, utilizzando solidi per costruire la figura, anche altre tipologie di disegni, è sicuramente un metodo molto usato, si usa e aiuta tantissimo proprio a capire, a sfruttare, diciamo, la semplicità di queste forme per aiutarsi a costruire la figura o qualsiasi cosa che volete disegnare in maniera più semplice. Poi, vedrete che poi col tempo, quando iniziate a utilizzare i solidi, le forme geometri in generale, poi capirete anche meglio il potenziale di queste cose. Questi sono solo video dove tanto vi, in qualche modo, cercano di far capire che ci sono questi metodi, che servono tanto, poi anche ognuno è libero di decidere quanto utilizzare forme geometriche, solidi, eccetera, per disegnare o meno. Però, ecco, specialmente come prima bozza, quando si fa costruire un disegno, utilizzare forme geometriche, solidi, eccetera, è molto utile. Ok, il video è finito, ciao ciao! Grazie a tutti!